Stefania Prestigiacomo si ricandida sempre con Forza Italia e sottolineiamo sempre perché coerenza innanzitutto. Sappiamo che è stata molto corteggiata anche da altri partiti, ma Prestigiacomo è Forza Italia. Io credo che il valore della coerenza sia uno dei primi valori per chi si impegna in politica. Abbiamo visto tanti cambi di casacca in questi anni. Io sono nata in politica con Forza Italia, continuo a battermi per le idee, i valori, i programmi di Forza Italia e sono convinta che in questo momento storico Forza Italia e il centrodestra portano avanti un programma che è l'unico in grado di far ripartire il Paese. Noi come Sicilia abbiamo pagato il prezzo più alto di una crisi economica che ha colpito tutta Europa e che adesso vede tutti i Paesi ripartire. L'Italia fa analino di coda, in particolare il Mezzogiorno d'Italia. È un momento storico importante dove i cittadini devono esercitare il loro diritto attraverso il voto di dire la propria e lo devono fare in modo consapevole riflettendo su cosa è in gioco. È in gioco il futuro e il benessere del nostro Paese e dei nostri figli. Io credo che l'unico programma serio sia quello portato avanti dal centrodestra. Ereditiamo un Paese con una disoccupazione spaventosa. Dobbiamo fare ripartire il Paese. È l'unico progetto politico in grado di sostenere le imprese che sono le uniche che possono generare occupazione e sviluppo e quello di Forza Italia. In particolare nella nostra provincia abbiamo anche appuntamenti più importanti che ci toccano da vicino dopo questo voto politico. Quindi è una campagna elettorale che sarà molto lunga e che ci deve vedere impegnatissimi per ribaltare una situazione di stallo e di paralisi che vede la nostra provincia espropriata dell'autorità portuale, della Camera di Commercio e priva di qualunque programmazione. Ci deve vedere impegnati perché noi abbiamo bisogno di ripartire e di recuperare questi anni in cui siamo stati fermi, governati da una classe dirigente a partire dal Comune, e poi la Regione a livello nazionale che non ha saputo rappresentare in maniera adeguata i bisogni di questo territorio. Dando uno sguardo agli avversari c'è da fare i conti con i 5 Stelle innanzitutto che li ritroviamo anche in provincia di Siracusa. In provincia di Siracusa c'è un fenomeno che vede un Movimento 5 Stelle avere risultati più alti delle altre province e del resto del Paese, quindi bisogna impegnarsi ancora di più perché questo Movimento ha raccolto un disagio, un voto di protesta, ma con la protesta non si costruisce il futuro, il futuro si costruisce con i progetti seri, credibili. Io invito quanti sono tentati di votare 5 Stelle a guardare i loro programmi, a capire che una forza politica che si batte contro i vaccini, quindi che è contro il progresso e la scienza, che si batte per un sussidio di cittadinanza, cioè per dare dei soldi ai giovani disoccupati, per stare a casa, non è quello di cui il Paese ha bisogno. Guardate i programmi, esprimete un voto consapevole, se anche vi sentite sfiduciati, cercate di fare un distinguo tra chi è rappresentato negli anni la buona politica e ha fatto qualcosa, perché le ultime grandi opere risalgono ai governi Berlusconi, l'autostrada Siracusa-Catania, poi null'altro, e cercate di non sprecare questa grande occasione. D'altro canto il Movimento 5 Stelle è stimato intorno al 26% a livello nazionale, quindi è lontanissimo dalla possibilità di raggiungere quel 40% che potrebbe dare loro la possibilità di governare, quindi è soltanto un voto sottratto al centro-destra, che è vicino a quella quota 40%. Noi vogliamo che il 5 di marzo ci siano le condizioni di dare un governo stabile al Paese, perché il Paese deve ripartire. 5 Stelle ad Augusta, cosa dire agli elettori augustani? Guardi, ad Augusta credo che l'amministrazione guidata da una sindaca che fino a poco fa, adesso non si sa più, insomma è stata eletta nel Movimento 5 Stelle, ha rappresentato tutta una serie di fallimenti sotto gli occhi di tutti. Augusta ha perso la titolarità del suo porto, anche perché l'amministrazione non ha saputo preventivamente fare sentire la propria voce. Si candida ad ospitare hotspot, che non credo sia esattamente quello che si aspettano le imprese che operano all'interno del porto, di vedere occupate le banchine per realizzare strutture per accogliere immigrati, quindi la città di Augusta credo abbia sperimentato sulla propria pelle l'incapacità che è comunque sotto gli occhi di tutti a Roma, a Torino, a Livorno, nelle città amministrate dai 5 Stelle, quindi di non lasciarsi condizionare dalla presenza di candidati della propria città, ma di esprimere un voto consapevole. Augusta e tutta la provincia di Siracusa possono ripartire se finalmente vedranno alla Camera e al Senato una rappresentanza che sappia fare sentire la propria voce sui problemi del territorio e che in questi anni è drammaticamente mancata.